ciao cipollini! ciao cipollini! ciao! siamo su brostar, io e Raffaella Genne, io non sono forte con però l'ho preso perchè nella partita di prima abbiamo perso, cioè abbiamo vinto però io continuavo a morire perchè c'era sto tic, quindi lo voglio prendere io e Raffaella che non arriva un'altra risposta, ma sopra la faccia a un'altra risposta. Semi, so, 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 so... Yeah! Mamma, sono io qui. A quanto pare? Devi preposizionare le cose qui. Ecco, ciao, buonanotte. Se ci esco, senti che mi uccide in un secondo. Ah, qui, poi ce l'hai, senti. Infatti, di nuovo mi è diventata la seconda. Mamma, non posso farvi vedere questa picca, che è il mio personaggio. Mi prendo io, ti prendi un pochino di cazzino. Io ti faccio vedere la piccola. Per tipo... Abbascia un po' la musica. Va bene. No, se non mi si senti un video. Se la dobbiamo urlare. Appunto! Ti ho un pedino alto, ma non troppo. No, no, così, così va bene. Eh, Lola, Penny. Io sono forte con Penny, vero? Sì, prendi Penny. Gli altri diranno, ma Penny fa schifo. Invece vedrete, vedrete. Ma è più forte Penny a fare la gemma che in sopravvivenza. È vero, però... La loro squadra è più forte della nostra. Però... Ce la possiamo fare. Credo. O dai, che li sto uccidendo, non è? Devi così chiamare un guattrino. Aucci! Che danno che mi faccio, in serio? Nooo! Caspita, sono in serio, caspita. Sono un casco vero. Sono un enorme che si faccia da una caccia per oggi. Una bella caccia vera. Una caccia vera. Sono già morta. Beh, ok, che sono fatta. Perché non mi faccio, non mi faccio, non mi faccio, non mi faccio. Non mi faccio, non mi faccio, non mi faccio. Non mi faccio, non mi faccio, non mi faccio, non mi faccio. Cioè. Cioè. Però, vabbè. Cioè, cioè. Però, vabbè, non ho capito quello che ho detto. Perché non mi faccio. No! Un'ora e il secondo che ho fatto. Un po' tutto perché. Non mi faccio. Però la mia torretta funziona. Sì, sì. Qui. Una starvedere merda, per lui. E qua non mi faccio carino in più, a volte. A volte. Poi i perni più thick. Ci sono alcuni punti dove proprio non possono passare. Eh sì. Dai! È stata brava. Decisamente sì. E l'altra era forte, quindi possiamo. No, ho fatto decine. No. Ho sbagliato io. Ma io non vedo l'ora di sbloccare Spike. I love it Spike. Allora, papà. Dobbiamo vincere ancora un bel po' di coppe. Sbloccare. Arrivo qua. E lo sblocco. Per chi manca poco. Per chi manca poco a... Non lo sai neanche te, insomma. Però manca poco. Sbloccarlo. Manca poco. Però manca poco. Soprattutto perché c'è la skin... Della cacca. La skin della cacca. È stupenda. È troppo bello. Io avevo detto che risparmiavo per prendere la skin. Poi invece li ho spesi tutti leggendo. Appunto. La skin della cacca. Ma alcuni ce l'avranno anche te. Ma lo sai che? Un giorno non ho fatto video. Però ci raccontano di me in sopravvivenza solo la skin della cacca. Ti giuro. La skin della cacca. Ah, ma sai perché? Perché va veloce Penny. Eh, no. Eh, no. No. Ok. L'acqua, l'acqua, l'acqua. L'acqua! Who l'acqua! Andi lo andi lo andi lo andi lo andi loand. Ma la 74. L'acqua. E lo e lo e lo e lo. E' lo e lo e lo. no, 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 no aiuto, 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 cosa succede? Ah, perché sono no arta KIM l'Urso? Dai, che vissi! Bravissimi! Che bello! Ma perchè gli danno il milione? Lui che ha fatto 3 uccisioni e io 5 uccisioni e uno morto. Se non è morto e aveva le gemme. E ho preso le gemme quando abbiamo ucciso gli altri. Si, però... Oh, io ho un super raro e ho trovato 100 monete. Mi mancava poco! A te mancava poco peso. Eh si, tra l'altro ho i... Ah, quali mi servono? Ok, però manca quelle nuove. E qui le cassa dei trofei con le nuove non le ho capite più di tanto. Non si. So che dobbiamo arrivare a mille coppe. Però l'importante è che fai pronto. Per ogni personaggio. C'è ragione. 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 Per sapere che io aspetto aspetti gli dico a Giulio Giulio ma... Quindi fama veramente sei tu che devi stare pronto. Appunto. Abbiamo un altro visto come uno che non so se si muove. Oh! Oh! non si muove il nostro compagno non capirò non capirò non capirò Vabbè Che bello Non ci voglio dare E qui è No, no, no Cavolo Caspiterina 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 Si, giummi te, giummi te, giummi te Giummi te, giummi te Giummi te Se vinciamo bene Se vinciamo bene No Come è fatto a morire? Come è fatto a morire? Non lo so Papà lasciami leggere no morire chanichinibita a me mi chanichinibita e non so come se hace no morire però meglio ma che si noto di eso no tengo io distante cavolo in serio cavolo no tutti hanno capito il gengo ma perché sto fermo ma perché sono andato solo io a picchiarla quella con le gemme io sono morto e io stavo andando a picchiare quella con le gemme ma davvero abbiamo perso sta partita questa va fermo no una cosa che dovrebbero fare in questo gioco è poter segnalare alle persone no ma ascolta ci aveva tutte quelle gemme ok e andava a picchiare c'è no eri meglio ti che forte che mi fai la gemme e appunto e vedrai che anche questo mi sa oh ci abbiamo anche il cage quanto cavolo è forte wow un bosco è forte anche se hai coadrino questo il vansclo il vansclo è piatto ma non abbiamo mai visto ma io mi faccio gli affari miei ma buong' fisica buong' ma non io mi faccio gli affari io mi faccio gli affari io mi faccio gli affari Sì, va bene, dai. Vinto! Vediamo se non è che era mia sfiducia. Guarda, guarda come scappavo, guarda come scappavo, è visibile. Allora, papà, cambiamo se non so cosa c'è. Facciamo se non so cosa c'è la gente. Ok, ok. Cambiamo personaggi? Io no. Anzi, provo lei. Che mi prendi? Allora, se ti prendi lei, io prendo un somigliore a me. Ha davvero un somigliore a me? No. Però lui rallenta quando colpisce, gli è messo più forte. E dai, ti rende pieno. E noi perché di squadra ce ne abbiamo uno che non è tanto forte, però... Però è qui. E io non c'è un caso che sta qui. Che ce la sta qui. E io non c'è un caso che sta qui. E io non c'è un caso che sta qui. E io non c'è un caso che sta qui. E io non c'è un caso che sta qui. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.